Cari amici buona domenica e bentornati, finalmente ci siamo al giorno della partita, allora io questa mattina ho deciso di intraprendere un percorso spirituale, un percorso spirituale attraverso il rosario che su TV2000 hanno trasmesso questa mattina per cercare di dare una mano al nostro Milan, perché a questo punto non sapendo più a cosa appellarmi dopo le notizie di ieri ho deciso di richiedere in maniera alquanto impropria, perché non si dovrebbero chiedere queste cose, però di chiedere se non la grazia, quantomeno un po' di indulgenza nei confronti dei nostri giocatori, perché sta succedendo veramente qualcosa di incredibile, una cosa della quale però voglio dire bisognerà cominciare a tener conto e in un certo senso le parole del mister ieri ci hanno detto che stanno cercando di capire quali sono i motivi di tutti questi infortuni, perché io posso comprendere la preparazione azzoppata per via degli impegni, per via dei preliminari, posso capire tutto, posso capire il fatto che siccome ci sono stati tanti infortuni, tanti hanno giocato tanto e quindi adesso, però così è veramente un'ecatombe, cioè così è una cosa incredibile, non riusciamo a programmare una partita da un giorno all'altro che succede qualcosa, notizia di mezzanotte, dell'infortunio di Tonali e di Teo, cioè io oggi mi sono scritto, adesso ne parliamo, mi sono scritto qui quella che potrebbe essere la formazione di oggi della partita contro il Verona, a parte Gigio in porta, poi Calabria a destra, Tomori e Romagnoli sapevamo, avrebbero giocato e per ora, per ora sono disponibili, poi giocherà da rotta a sinistra, a questo punto, cosa che potrebbe anche non essere del tutto negativa, per le cose che ci siamo detti ieri, e in mezzo al campo ci saranno Meite che sì, anche se poi ieri qualcuno ha scritto che anche che sì, potrebbe stare in panchina, che non sta bene, non lo so, vedremo, e dopo in attacco ci saranno Samu, Saleme Kerr, che giocherà a sinistra con Samu a destra, e poi Krunic alle spalle di Leao, anche se poi in realtà, secondo me, sarà un bel 4-3-3 oggi con Meite, Krunic e Kessi a fare Ciccia, a fare presenza in mezzo al campo, e poi Samu e Saleme Kerr larghi alle spalle di Leao, potrebbe essere una cosa del genere, potrebbe essere una cosa del genere. Nel caso è stato un sabato veramente all'insegna delle notizie strambe, perché prima l'intervista di Franco Baresi, che dice che lui avrebbe potuto giocare all'Inter, poi questa roba simpatica, che tra l'altro si sapeva anche già del provino mancato all'Inter, poi dopo tutta quella roba sul fondo che vorrebbe acquistare il Milan, da cui neanche parliamo, perché ormai avete capito tutti come agisce Elliot e che quando avrà venduto, noi lo sapremo, una settimana dopo la firma, il modus operandi credo sia abbastanza chiaro, per cui inutile fare nemmeno mezza parola su questa cosa, dobbiamo concentrarci sul campionato, dobbiamo concentrarci sulla partita di oggi, dove arriviamo, ripeto, con una formazione veramente azzoppata dagli infortuni, cioè oggi guardando la formazione che scenderà in campo e guardando quelli che mancano, allora, Teo, ok, abbiamo detto, gioca da lotto, poi dopo in mezzo al campo non c'è titolare, dei tre giocatori, dei quattro giocatori offensivi, titolare solo uno, praticamente Sanem e Kerr sulla destra, le altre sono tutte riserve, cioè io adesso veramente, se oggi dovessimo uscire con un risultato dal Bente Godi, ci sarebbe davvero da meravigliarsi, nel senso che, d'accordo che comunque siamo una squadra dignitosa, così se non altro reparto difensivo, un reparto che può darci un po' di tranquillità oggi, però sinceramente in queste condizioni io non so come faremo fare gol, non so come riusciremo a resistere, poi bisogna dare un po' anche chi avremo in panchina eventualmente a disposizione per fare anche dei cambi, per avere delle alternative, perché poi giochiamo giovedì in Europa League, allora io davvero comincio un po' a essere dubbioso, devo dire la verità, non voglio addentrarmi nelle questioni perché non ho competenze, quindi non posso permettervi di parlare di cose che non so, però con voi voglio condividere così in questa specie di nuova proposta multimediale del web, cioè questa sorta di preghiera collettiva, preghiera laica collettiva che potremmo fare qui per cercare di aiutare i nostri a non infortunarsi, ma ecco io veramente comincio fra me e me a farmi delle domande su quella che è la situazione del nostro staff medico, cioè è veramente tutto da imputare solamente alla preparazione che è stata fatta un po' così per ragioni di tempo, al fatto che abbiamo giocato tanto eccetera eccetera, perché è vero che guardando poi i dati, diciamo la classifica degli infortunati ci sono anche altre squadre che hanno avuto, ad esempio la Juventus, ha avuto un'abbondanza di infortuni e insomma anche loro non si possono lamentare, però devo dire che questa cosa del Milan tra l'altro non è nemmeno una novità perché sono tante stagioni che abbiamo degli infortunati e abbiamo delle ricadute, allora non lo so, io mi rimetto alle parole del mister che ha detto insomma che stanno cercando di capire che cosa sta accadendo e quant'altro, mister che tra l'altro si è anche reso disponibile a scendere in campo, ha detto io dire ai ragazzi che mi piacerebbe avere 30 anni in meno e poter oggi scendere in campo con voi, devo dire che non ci farebbe male un Pioli in campo così come non ci farebbe male un Maldini in campo, ma anche un Ricky Massara in campo oggi, per cui cosa devo dirvi, io spero veramente che i ragazzi possano sfoderare una prestazione di livello, una prestazione che possa permetterci alla fine della partita di fare un sorriso in faccia alla sorte che ci sta veramente presentando il conto di quanto bene abbiamo fatto la scorsa estate e che adesso veramente si sta mettendo di traverso per metterci in difficoltà perché la Juventus comunque è sotto, ieri ha vinto, deve recuperare una partita, noi nel caso oggi non dovessimo fare risultato c'è il rischio anche che ci possano scavalcare, ma al di là di questo, poi non è che secondo terzo in questo momento fa la differenza, quello che fa la differenza è il fatto che noi veramente siamo in grande difficoltà dal punto di vista di uomini, siamo in grande difficoltà dal punto di vista di schierare una formazione, io sono preoccupato per questa cosa perché arrivano delle partite importanti, arriva la partita di oggi, poi la partita col Manchester, la partita col Napoli che per certi versi potrebbe essere anche meno complicata di quella di oggi, però ecco, tutti questi infortuni, tutte queste cose, io veramente ripeto, comincio a farmi delle domande, ecco se non altro, farmi delle domande su quella che può essere la gestione, non lo so, dei carichi di lavoro, lo dico perché l'ha detto Pioli, però ripeto, comincio veramente a farmi delle domande e spero che, insomma, spero in ogni caso che oggi i ragazzi possano fare una prestazione di livello, quelli rimasti, insomma, quelli che ci sono, sperando che nella testa, diciamo, dei ragazzi non, così, non serpeggi un po' di timore per magari cominciare un po' a, sai, perché può capitare che cominci a pensare, beh, però attenzione se mi infortuno anch'io dopo magari non ne esco più perché, sì, qui, non è, non si tratta di cadute, ricadute e quant'altro, ecco, quindi spero veramente in una prestazione oggi importante dei ragazzi, spero ovviamente in una vittoria e mi auguro che da un punto di vista fisico quelli che ci sono possano essere adeguati per controbattere a quelle che sono le caratteristiche del vero monaco che abbiamo visto ieri. In ogni caso, forza Milan, sempre, forza ragazzi, speriamo bene e spero, insomma, che quando ci sentiremo più tardi nel post partita potremo potremmo commentare, insomma, un risultato positivo, ecco, per noi, speriamo, dai. In ogni caso, se oggi dovessimo fare bene, come dicevo, guarderemo in faccia la mala sorte e le faremo una bella pernacchia. Intanto buona domenica ancora e ci sentiamo nel post partita.